se lo dice il ragioniere mette a 18 tutte le sere se lo dice il ragioniere onda tv lo dobbiamo fare se una tranna passate mette sempre a 18 te le dice pepe zavada oggi è 7 domani è 8 mettete tutti a canale 18 perfetto se il numero è 38 la sera mette a 18 ossia traduciamo in italiano se il numero è 38 la sera mette a 18 ovviamente le scarpe ovviamente le scarpe si riferisce alla branca mi raccomando se c'è il punto 39 mette lo stesso a 18 allora se la casa la fumetta la fumetta mette a 18 e non ciò pensato eppure oggi lo stanno profumato mette a 18 tutta la giornata non ciò che lo dice l'ucio h2o mette a 18 pure te lo dice angelo pazzo mette a 18 la televisione non può sbagliare grazie se alla scuola vuoi pia tutti 7 e 8 ma sera mette a 18 mi raccomando eh lo dice mario luciano mette a 18 da oggi a domani no ce ne abbiamo pure un'altra a me ne stanno provino a domani eh si qual è qual è se te lo dice luciano cagaccia mette a 18 sennò ti spacca la faccia ognuno ha trovato il suo motto buon anno da mister 18 buon anno da mister 18